Buona giornata da Nico Schiodetto, maltempo in avvicinamento sull'Italia dopo un bel weekend con temperature estive o quasi su molte zone degli stati europei, addirittura in Germania massime prossime ai 30 gradi. Adesso cambia tutto perché questa perturbazione seguita ad aria più fresca oceanica raggiungerà il centro nord Italia, sta già interessando i Paesi Bassi e la Francia, la Spagna, nelle prossime ore raggiungerà tutto il nord ovest. Già sono in atto precipitazioni tra Valle d'Osta e Piemonte. Ecco qui il sistema perturbato che a piccoli passi si muove verso le nostre regioni centro-settentrionali. Al sud resiste ancora un po' di alta pressione, difatti anche nella giornata di domani condizioni di bel tempo mentre al centro nord Italia sarà attiva l'instabilità per un minibo depressionario. Nel dettaglio quindi martedì precipitazioni sin dalla mattinata su tutto il nord ovest, poi giungeranno durante il pomeriggio anche sulle Venezia, Emilia Romagna, regioni centrali, qualche fenomeno anche di passaggio sulla Sardegna. Attenzione a dei temporali localmente anche intensi. Resiste l'alta pressione invece all'estremo sud per una giornata abbastanza bella e tra l'altro con temperature estive o quasi sulla Puglia massime prossime ai 28, 29 gradi per lo Scirocco e di Libeccio. Mercoledì inizia a spostarsi il minimo di bassa pressione ma ancora qualche fenomeno in mattinata sul nord-este e durante il pomeriggio qualche sporadico piovasco, specie ridosso alle zone montuose al nord ovest e regioni centrali. Qualche residuo a goccia di pioggia anche sul basso Tirreno, insomma una gran variabilità con venti che questa volta saranno decisamente più freschi in rinforzo di Maestrale e sostituiranno quindi lo Scirocco e di Beccio. Attenzione perché poi anche in vista della seconda parte di settimana il tempo sarà inaffidabile, dinamico con ancora rischio pioggia. Il centro-nord, tutti i dettagli precisi e gli ulteriori approfondimenti sul nostro sito web.